E' una scuola per tutti per sempre, vengiamo quelli sciacalli! Centrale di Brooklyn, qui al comando della divisione. Abbiamo inviato un agente all'ottantaquattresimo, ma tutti gli ingressi sono bloccati. Divisione? Questa è la notizia migliore del mese. Provate il garage sul retro. Sentito agente? Entra da lì, valvi a prendere. Dino così e sono finiti. Risolviamo l'attivazione. Hai fatto un ottimo lavoro. Hai fatto un ottimo lavoro. Porca troia! Seguite i tuoi linee alla legna.